Un uomo di 70 anni, residente a Salerno, è stato arrestato a Lissone, in provincia di Monza. Il settantenne ha affrontato un viaggio di 800 chilometri per ricarsi in Brianza a casa dell'ex compagna, una 47enne di origine russa, incurante del divieto di avvicinamento nei suoi confronti. Una volta arrivato a Lissone, l'uomo, che già da tempo perseguitava la donna, ha suonato insistentemente il citofono perché lei li aprisse. Accortasi che sotto casa c'era l'ex compagno, la 47enne ha chiamato i carabinieri di Desio, che hanno bloccato ed arrestato l'uomo per stalking.